ciao ragazzi benvenuti su hookhead primo video del canale e siamo in un lago dove io ho una lasciamo perdere mai preso un pesce in questo lago lui si vediamo che cosa esce oggi ci avvaliamo anche dello strumento del demonio meglio conosciuto come diper per andare a sondare un po meglio quello che è il fondale e la temperatura dell'acqua che sono cose molto importanti devo capitano per noi pescatori allora l'acqua freschina siamo in una situazione un po di stallo ovviamente acqua fredda pesce un po apatico e quindi io mi sono dimenticato gli occhiali quindi non vedo praticamente niente però non demordiamo perché chi demorde piglia pesci e noi gli prendiamo i pesci stiamo pescando con una testina piombata innescata allora a parte che non è vero perché ho detto una cazzata perché lui prima stava pescando con una innesca di reazione adesso invece ci mettiamo tutti e due a testina piombata con uno sciaddino la testina piombata abbastanza leggera giusto e speriamo si è inizia a vedere la bigia vabbè dai è presto io la spero io la spero dai che già facciamo allora cambiamo cambiamo colore andiamo su un approccio molto più chiaro no andiamo su un approccio un po più chiaro easy shiner da tre pollici ma secondo me c'è troppo casino il capitano libeccio lega la barca bravo capitano i nodi li sai fare ecco a posto ci sei facciamo due lanci da riva perché siamo estremamente scaramantici e non si sa mai o no facciamo due lanci da riva che siamo scaramantici un pochino eh no ce l'ho eh io per il culo ma ce l'ho vai vai tira anche bello figlio mio metti subito prendi il guadino no no nel senso perché olè è qua quasi che che bel pesciotto lancio da riva fortunato è uscito sto bel pesciotto è una foto è uscito sto bel pesciottone qua allora siamo tornati in pesca e porca puttana stanno ricominciando a fare wake vabbè vai di là e niente ci sono quelli che fanno wakeboard che ci metteranno un po' i bastoni tra le ruote ma noi ce ne sbattiamo le palle e andiamo a pescare di là adesso ho cambiato esca ho messo su un trago spin tail e faremo qualche lancio e vediamo dopo la bella emozione del bel basso che culo ho sfatato il mito che culo allora dato che ho perso il mio fantastico spin tail che rimarrà come ricordo sul ramo di un albero sommerso ho deciso di adottare un metodo diverso creaturina un po' vibrante vediamo se qualche basso recettivo risponde adesso proviamo a pescare qua dove ci sono questi là ci sono delle rocce franate qua c'è una bella ansa di acqua ferma sperando di beccare qualche pesce che staziona giornata finita una cattura purtroppo il buon Luca non il buon Luca non ha concluso tanto ci rifaremo e niente raga prima puntata Wicked finita ciao 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 Grazie a tutti.